Conosco un incantesimo che trasforma i pensieri normali in stupore e immaginazione. Si chiama lavanda. In aromaterapia le essenze vegetali hanno una naturale capacità di migliorare la nostra salute e il nostro benessere e sono senza dubbio in linea con la nostra natura vibrazionale. Ora vi parlerò dei vari benefici per la salute dell'olio essenziale di lavanda e delle sue innumerevoli proprietà. La lavanda è un ottimo repellente per insetti, usato in diffusione negli ambienti o usato direttamente sulla pelle in una crema o olio vettore. Ne basteranno davvero poche gocce. La lavanda induce il sonno, allevia lo stress e l'ansia. La lavanda cura i capelli, basterà aggiungere qualche piccola goccia nel vostro abituale shampoo e i vostri capelli ne avranno un beneficio immediato. L'olio essenziale di lavanda è un vero alleato della vostra bellezza. Provate ad aggiungere qualche goccia nella vostra abituale crema da giorno e il risultato sarà un vero incantesimo. La lavanda migliora la circolazione sanguigna. Un bel massaggio con olio di mandorle dolci e lavanda darà immediato sollievo alle gambe stanche. L'olio di lavanda aiuta la digestione. Provate a massaggiare con una piccola quantità di olio essenziale il vostro addome. L'olio di lavanda, usato in uno dei vari modi che vi ho descritto, aiuta e contribuisce ad aumentare le nostre difese immunitarie. Davvero incredibile vero? Ma ricorda, solo un olio essenziale di grado terapeutico, come tutti gli olido terra del resto, potrà portare i benefici che vi ho descritto, altrimenti avrà solo un buon profumo. In descrizione troverete i link per acquistare in sicurezza e i contatti se avete qualche dubbio. Alla prossima! Grazie a tutti!